Io sono contento di essere qui per la finalità di questa serata e un modo per essere vicino anche a questo. Per il resto, compatite con me. Volevo chiedere a Monsignore che a ruolo gioca. Stasera dovevo giocare alla rada sinistra quando mettevano uno che si era rotto. Stai lì, stai fermo. Ma normalmente giocavo a metà cercando di fare dei danni a chi veniva su. Ringraziamo Monsignore sicuramente.